salve a tutti carissimi amici bentornati a casa viani oggi come vedete sono in un'ambientazione molto molto particolare sono in un garage e guardate qua che cosa ho trovato una bellissima moto dell'amico Tomek che ora ce la illustrerà questa è una moto 350 Royal Enfield Bullet prodotta in Inghilterra però è stata importata dall'India penso nell'anno 2000 è una moto che ovviamente a benzina e la stanno producendo ancora in India con il marchio Royal Enfield che era un praticamente da primo era un'industria che faceva le caravine e i cannoni e infatti qua c'era anche un adesivo con la pubblicità Royal Enfield Made Like A Gun fatto come la pistola che descrive la robustezza del del mezzo sì certo questa è una moto che ancora funziona vero ancora viaggiante si si viaggiante con la targa con l'assicurazione con la sua bella targa guardate i seggiolini in pelle come usavano una volta stupenda ecco qua guardate che meraviglia queste davvero da noi raramente si trovano è veramente sono veramente mosche bianche qui vediamo l'amico Tomec con la moglie in India in giro proprio con questa moto e questo ci fa capire ecco la sua le sue potenzialità insomma una moto con cui puoi girare un po' dappertutto fantastica ragazzi la portiamo sul canale oggi a casa Viani e da questo bel garage ringraziamo l'amico Tomec in compagnia di Alberto ciao a tutti dal garage di Tomec ciao a tutti dalla vecchia Gioia